Poi due sul campo. Se voi vincite Stanley Scudetto. No, perché l'anno scorso vincite Stanley Scudetto. No, perché l'anno scorso vincite Stanley Scudetto. Oh, te l'hanno accorto quattro ruolo. Ogni anno se voi vincite Stanley Scudetto. Parro, l'anno scorso 40 punti, tu hanno arredo 29.000 e parro. No, l'anno scorso vincite Stanley Scudetto. 2-5 punti. L'anno scorso vincite Stanley Scudetto. L'abbiamo vinto. Vediamo la Champions con Stanley Scudetto. Vabbè? Con Parezmini. Già gente che stanno andando a finale, Chelsea Fiorentina. Chelsea Fiorentina stanno andando a finale. Tu parli come tutti gli ierirentini. Chelsea Fiorentina a finale. Chelsea Fiorentina a finale. Facisto con Broglie l'anno scorso. Stanno su invece Chelsea per la pace possibile. Ma che cazzo. Eh no. Io mi ero con Chelsea. Chelsea. Chelsea Noore.